I rappresentanti di Meghan Markle a Hollywood sono attualmente impegnati in trattative avanzate per un sostanziale ritorno in televisione. Secondo una fonte affidabile di uno studio importante, le discussioni riguardano un nuovo spin-off della sua serie di successo, Suz. Gli agenti di Hollywood di Meghan Markle sono in trattative avanzate per un massiccio accordo di ritorno in TV. In un nuovo spin-off del suo show di successo Suz, ha rivelato una fonte di punta dello studio. I capi di NBC Universal hanno dato il via libera a un sequel ad alto budget della serie originale del creatore di Suz Aaron Korsch, e sono pronti a pagare tutto il necessario affinché la duchessa di Sussex riprenda il suo ruolo nel dramma legale. Ciò segue il successo fenomenale e del tutto inaspettato delle repliche su Netflix, dove Suz è diventato lo show più scaricato d'America, superando la top 10 dello streaming per 15 delle ultime 18 settimane e accumulando oltre 45,4 miliardi di minuti di visualizzazione. E la nostra fonte di produzione senior conferma, è sempre stato uno spettacolo che ha avuto un successo limitato, ma la sua rinascita su Netflix lo ha spinto in un regno completamente nuovo e un nuovo spin-off può trasformare Meghan in una delle star televisive più pagate al mondo.La fonte ha aggiunto che la potente agenzia di Meghan, WME, è in colloqui avanzati con i dirigenti della NBC per riprendere il suo ruolo estremamente popolare di assistente legale Re Celzane e ha continuato, lei è l'attore chiave qui e sono pronti a pagare qualunque cosa serva. Ciò annullerebbe completamente una dichiarazione rilasciata da WME quando ha firmato per l'agenzia ad aprile che insisteva, non ci si concentrerà sulla recitazione o sulla costruzione della carriera di Meghan per diventare una star del cinema. Tutto ciò è cambiato, tuttavia, con la sorprendente ondata di interesse per i suoi vecchi episodi di Suits su Netflix. Meghan, 42 anni, è apparsa in 108 dei 134 episodi dello show originale in 7 stagioni, lasciandola nel 2018 dopo aver annunciato il suo fidanzamento con il principe Harry. Grazie per la visione!